Siamo al termine della partita vinta con la Priscena per 2 a 0. Che partita è stata, mister? Sapevamo che era una partita facile perché venivamo da due sconfitte, quindi la testa era un po' preoccupata per le due sconfitte fatte, però sapevo che i ragazzi oggi ce l'avrebbero messa tutta. Io credo che è stata una partita difficile, siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi non abbiamo mai sofferto, non mi ricordo una parata fatta al nostro portiere, forse l'unico rammarico è di poterla chiudere prima, abbiamo sbagliato in un rigore, quindi qualche occasione di troppo sbagliata e purtroppo l'abbiamo mantenuta in vita fino alla fine, però sono contento della squadra. Grazie a tutti!